potenziale per una cosa che forse qui potrebbe essere trasformata in un potenziale un po' armonico. Com'era il potenziale? Qualcuno me l'ha detto? Sì. ok e questo non è il potenziale separabile possiamo chiudere una somma di 1 o 2 a qualcuno è venuto in mente qualche cosa? vieni allora siete in due tu sei già da prima a alzare la mano quindi a te l'onore vieni certo vabbè quale è il miglior modo che vederlo? allora parla magari un po' forte perché se no i tuoi amici lontani quello che ho pensato è che questo tappalinge si può essere vista come una forma quadratica e quindi possiamo scrivere la matrice associata diagonalizzarla trovare i vettori di fase ok un po' allora questa è la matrice associata dopodiché per regolarizzarla scriviamo magari un'altra cosa scrivi un pochino più grande perché se no sembra tutto gigante sì sì no sembra gigante ma purtroppo non si può far meglio ma chiedi ragazzi siete soddisfatti della grafica ah ecco infatti c'era un pochino io non so ok nessuno nessuno si lamenta quindi ragazzi se non scriverò un pelino ancora più grande sarebbe meglio ok allora diciamo troviamo allora da ora in poi scrivi più grande quindi troviamo gli autovalori di questa matrice diagonalizzata quindi trovando il determinante i valori di latta che rendono 0 questo determinante allora quindi viene 2 meno latta poi abbiamo qua fa 0 quindi il numero di 1 e poi qua abbiamo il senso latto 2 meno latta ah quindi il determinante viene 2 meno latta ma di questo l'acqua è il numero quindi abbiamo ci sono ancora su qua su quindi diciamo forse non l'anno leggete ma c'è scritto che i due autovalori sono 1 1 e 3 1 e 3 esatto e quindi a questo punto quello che si può fare è trovare diciamo il vettore generatore di ciascun sottospazio relativo ai due autovalori appunto quindi se ti ricordi abbiamo trovato questi due autovalori che sono 1 e 3 e vanno trovati i corrispondenti dei due vettori per l'anno uguale 1 sostanzialmente quello che si fa è andare a scrivere qui in alta quindi posso già scritto ma se hai già sul quaderno l'hai fatto quindi diciamo avendo trovato gli autovalori troviamo i corrispondenti autovettori allora a me la base per l'anno uguale 1 tiene un vettore del tipo lo chiamiamo e quindi una è la somma e una è la differenza dei due i due autovalori sono critti interni di Q1 e Q2 sono Q1 primo possiamo chiamarlo Q1 più Q2 e Q2 primo Q1 meno Q2 a questo punto a questo punto sostanzialmente abbiamo diciamo trovato la forma diagonale del nostro potenziale perché semplicemente sarà Q1 Q2 sarà mezzo M omega al quadrato per 1 quadro 3 2 quadro e qua essenzialmente dove questi sono le nuove variabili qualunque segno che esistifica le variabili nuove allora un dubbio che avevo avuto a partire da questo punto era che comunque cioè se io cambio diciamo coordinate nello spazio delle coordinate chiaramente dovranno anche cambiare l'impulso cioè l'impulso varerà e quindi esattamente quello che ho pensato di fare era di scrivermi quindi la trasformazione diciamo che ho ottenuto cioè non so se vada bene però perché sono andata a recuperarlo su dei vecchi appunti tipo calcolare l'impulso piano fare l'inverso il trasporto cioè dunque facciamola più sentiamo il commento è molto è molto è molto è molto calzante questa è una dinamica mentoniana che deve rimanere una dinamica mentoniana perché se questo è vero cioè una calca suonazione di varia la puoi sempre fare però non puoi applicare tutte le proprietà di una mentoniana se ciò che ottieni non è una mentoniana e quindi devi assicurarti che avendo definito due nuovi variabili che possiamo sistemare uno scrivo qua uno primo che supponiamo sia questi ed anche uno più più due lasciami normalizzare diviso due e più due primo che è la differenza quello che devi fare devi trovare due nuove variabili coniugate che sono i uno primo e i due prima allora la cosa più semplice si fa in tanti modi diversi il modo semplice è di queste saranno delle combinazioni lineali che soddisfano i commutatori canonici e quindi diciamo che questa la sua iscritta A per più B per più due questa la potrebbe iscrivervi C per più B per più due dove queste sono quattro sostanti e devi assicurarti che tutti sicuramente uno primo uno primo da zero come deve sicuramente poiché le P sono combinazioni di altre P I I primo il P J più uno primo e più due primo faranno zero quello che devi assicurarti poi delle reti Q uno più primo pancia tagliato Q due prima di due prima pancia P H tagliato e infine che uno due faccia quindi se vuoi puoi quindi essenzialmente queste sono garantite perché le P sono chiaramente a questo punto hai le sue quattro condizioni che ti permettono di fissare questi quattro oggetti dopodiché fatto questo dovresti riscrivere la miltoniana infatti io lo faccio io ho fatto questo procedimento però un altro in un modo in un altro diciamo adesso questo è un modo più ruspante ma in un caso semplice più facilmente gestibile a questo punto riscrivi la nuova miltoniana miltoniana in termini delle variabili prime allora appena il potenziale l'hai già scritto quattro cioè io quelle costanti comunque le avevo determinate sì 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 quindi a questo punto diccio nel senso che allora p1 primo no alzi p1 cioè il che compare nell'elventoniana originale quindi è uguale a p1 primo più p2 primo e p2 mi viene p1 primo meno p2 primo esatto e quindi poi quando lo si va a sostituire nell'elventoniana cioè si ottiene beh la quindi la miltoniana quadratica continua a essere quadratica si annullano e quindi a questo punto abbiamo ottenuto un nuovo oscillatore armonico una nuova sistema di due oscillatori armonici uno nella variabile 1 uno nella variabile 2 con frequenze che nello caso sono omega quadri e l'altro caso frequenze quadri e quindi i livelli energetici di questo oggetto saranno E N1 N2 che saranno H tagliato omega N1 e mezzo più radice di 3 H tagliato omega N2 e quindi saranno stati che in generale non saranno mai decenni perché queste sono rapporti razionali tra di loro e quindi comunque avremo tutta una struttura a livelli che è una somma di due scalette la scaletta con L1 e la scaletta con i gradini con la radica di N2 bene grazie mille sì quindi è chiaro che di trucchi di questo tipo voglio dire sui libri ce ne sono decine la metodologia di principio quella è quella rimane e quindi è chiaro che qualunque forma quadratica la potete sempre diagonalizzare che è stato proposto nell'esercizio per la lavagna e quindi in generale un potenziale quadratico può essere sempre visto come una somma combinazione di oscillatori alzici ovviamente queste due dimensioni in tre sarebbe la stessa cosa in tre dimensioni e va bene potete qualche altro credo che domani avete altre ore di esercitazioni qualche altro esercizio lo potete fare tu hai pure fatto l'esercizio avevi seguito la stessa strada o una strada diversa no una strada è completamente diversa e quindi magari puoi raccontarcelo sì direi che è impagato però sì perché avevo provato a trasformarlo in un oscillatore armonico in tre dimensioni perché potevo risolvere un quadrato e quindi diciamo tendo le parenti di aver seguito uno quadrato di due quadro più la differenza al quadrato e quello le assegnavo un altro nome ecco tre e così ottenevo diciamo un nuovo scelto dell'ammonico in tre dimensioni e poi per il livello energetico ho pensato che diciamo N3 ci avrebbe dovuto dipendere dalla differenza per esempio non può essere negativa e allora ho avuto i vari casi e alla fine quindi mi veniva un oscillatore di stati energetici dipendevano comunque sempre solo N1 N2 dipendevano in maniera corretta o in maniera scorretta perché è chiaro che Q3 non è una variabile è una funzione di due variabili note ha una dinamica indipendente quindi va bene comunque sbagliando si impara va bene quindi diciamo che in un paio di giorni siamo passati da una dimensione che è un caso veramente disastrico scolastico in cui si possono derivare tanti vei dioremi ma la realtà quasi sempre non è vera a volte è interessante se lo è stato solito sono di dimensioni ridotte ma in generale la molta fisica si fa ahimè in tre dimensioni per fortuna sono solo tre o solo quattro sarebbe difficile e quindi andiamo in tre dimensioni in tre dimensioni si può fare anche in due ma diciamo c'è un'altra bestia che ha un'interessantissima che è molto coltivata nel mondo della meccanica quantistica che si chiama secondo voi come si potrebbe chiamare si potrebbe chiamare il momento angolare il momento angolare è definito classicamente come prodotto del tuo regalo che dipende come già pensate e è molto utile scrivere così la componente di y ma è y dj k dj dk questa notazione vi è nota o vi è ignota quindi questa è una notazione carattoriale con gli indici dj k che vanno da 1,2,3 quindi si si non se ne mi piace a voi i termini indici ripetuti si considerano sommati senza scrivere la città somma davanti e y dj k è quella cosa che vale 1 solo se y e k sono completamente adesimente vale 1 se y e k sono tutti diversi da loro e se gli indici messi in fila diciamo 1 2 3 ci girate intorno e sono in ordine allora si vale chiuso se invece fossero 1 3 2 e ci girate nell'altro verso allora sono i 6 e 3 vale meno 1 questo diciamo lo detenti è chiaro vi è noto bellissimo allora intanto c'è un primo problema cosa noi aspettiamo che essendo il momento angolare una cosa che si misura in biciclette e attrezzi affini sia un osservabile dunque deve essere un operatore autoaggiunto bene allora uso queste speciali qui e quindi ottengo m i e e e g k p k g ok dunque è diverso da noi perché due e commutano fra di loro allora che facciamo rinunciamo a studiare il momento angolare oppure e quindi le biciclette siamo sicuri che non sono quantistiche oppure avete altri suggerimenti nessuno ha qualche suggerimento sia vicini che lontani allora la risposta è che questo è solo apparentemente diverso da quello perché posso rispondere così che è n e croce è uguale a y e moltiplica f j e k più k comutatore d'accordo questo quanto vale questo vale meno di k tagliato delta k j la delta k j modificato per epsil di k fa quanto fa quanto fa questa combinazione qui si intende sommata su j e k se qualcuno dice di greco è spagnato si c'è una domanda dalla lontano 0 dice 0 dice qualcuno da poco lontano voi qui localmente non siete raccolto vi vedo per me sì è vero perché k j devono essere uguali a tutto perché è un oggetto che vale 1 se lo k è uguale a j ma quando k è uguale a j o j è uguale a k questo oggetto fa 0 dopo tutti i termini in cui questo è 1 questo è 0 e quindi fa 0 in realtà c'è anche un modo più generale che dice la stessa cosa questo è un tensore perfettamente simmetrico e questo è un tensore completamente simmetrico quindi quando ho qui anche se non fosse questo è il termine generale il prodotto di un tensore completamente simmetrico uno completamente antisimmetrico fa la sempre 0 semplicemente perché tutte le volte che qui ho due termini scambiati che sono uguali per simmetria qui ho gli stessi due termini scambiati che sono opposti e dunque questo pezzo è inutile mettercelo e questa cosa è equivalente diversi di 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 e quindi m1 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 e dunque l'operatore momento acolato che è un operatore autogiorno quindi vuol dire che potremmo avere biciclette quantistiche o ruote di biciclette voi lo sapete raccontare perché le biciclette staventieri dipende da dei momenti di merce delle due ruote e perché dato che l'asse di inerzia tende a mantenere la posizione perché uno l'asse principale è un'altra maggiore rispetto all'altra figura e bisogna mantenere la sua posizione perché noi lo sblocitiamo per una grande forza per il nostro spazio di muro e quindi mi stai dicendo che la bicicletta sta in piedi perché le ruote girano sì perché finché cammina ora volato via ma c'è una cosa più pesante invece questo è una cosa più pesante quindi finché cammina se le tiene beh ci devono l'aria e l'altra cosa si va bene perché il questo qua è scelta ma l'unità colare non è associato esclusivamente all'allocazione delle ruote è associato anche al momento in genere comunque diciamo questo è un altro corso so che ci si prende in castagna quindi non preoccuparti tutti vengono presi in castagna ma 12 che non sono presi in castagna sono quelli che lavorano alla piaccia a fare discutere loro lo sanno perfettamente facciamo le piccole piccole quindi torniamo a noi quindi abbiamo definito il momento argolare e politicamente queste due definizioni sono la stessa definizione ma molto spesso diciamo questa è più comoda per fare tutta l'infinità di aggiustamenti aggiustamenti formali che ci tocca fare allora due componenti diverse di cui vi dico 1 qui e qui y qui se pi si non la parla comune che succederà di questa cosa così allora quanto farà si accettano scommesse oppure in un regime populista la maggioranza vince allora qualcuno proponga anche da da casa farà zero non farà zero siamo qui a una domanda facile scusa tu dici che non fa zero siete tutti d'accordo ok quanto fa vogliamo fare un caso qualcuno vuole venire a fare un caso semplice chi è che c'è la manata disperazione o si è la manchiera non si facciamo anche x quello di x la prima definizione facciamo proprio un'operazione passo passo che ci scrive x che ci scrive x uno due come volete voi questa sembra essere la definizione sì 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 cosa due dimensioni come due dimensioni no no volare intangolare al solello in due dimensioni in due dimensioni anche perché in due dimensioni quattro componenti di un momento angolare hai è fatto fatto come vedete se c'hai un moto in x in y in che dire se hai due dimensioni se sei in due dimensioni attenzione il ragazzo è l'inquisizione comincia a affilare i contelli se tu hai un vettore x e un vettore y costretto a stare in questo piano il loro prodotto elettoriale in quali direzioni consente l'unica unica cosa che puoi definire è una terza dimensione in cui l'unica in cui riesci a muoversi quindi noi siamo in tre dimensioni quindi si va sempre la camera eh sì no magari prova a scriverlo prova a scriverlo se questo è x vuol dire che qui c'è x quindi qui potrei metterci y e z meno z e qui potrei metterci se qui c'è x e qui ci potrei metterci y e poi l'altro e poi l'altro mx e mx scrivi la sull'istitore come vuoi se te lo scrivi esplicitamente no 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 di qui ci sarà x qui qui y z quindi quindi qui e qui x non ci può essere se io qui metto y possono ci sere qui devo mettere per questa e quindi ho y zero sono lineari e mi sto dicendo simologi esplicitamente allora allora vedo un po' di difficoltà quindi effetti o l'ese quindi scriviamo nx x x i j q y j k k quale direttamente q j k cioè qui c'è x qui cosa posso mettere y li devo sommare no ma gli unici che rimasto sopra x x y zero più y zero più di zero x x e forza e forza e forza di y zero questo quanto va ci sono ordinati un due tre il numero è un questo vale più uno questo vale meno uno perché se tu li vedi sono sono le 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 e quindi questo è meno e abbiamo quattro c e un pulitino sempre z meno z è uguale ora facciamo la stessa cosa qui s e ci fanno il volo o puoi farlo passo in mano sulla tua scelta? Ah, direi più. Grazie. Mi senterei di cartellino. Dove... Allora, intanto scriviti ma tu e poi ti, perché in ogni caso, anch'io sbagliato. E chiaramente abbiamo sbagliato sopra qui. Questo è. Scusate, abbiamo fatto confusione. Quello di sotto, M-X, è un ragionamento lo stesso. Sì. Questa volta abbiamo un X, io abbiamo un X. Un X, un J, un H. Quindi, direi che è un altro prima. Ah, sempre, sempre col meno. Uno sarà col più, uno sarà col meno. No, è quello giusto col più, uno sarà col meno. Ma, fallo pure passo passo. Direi. Perché, per esempio, che è un'altra prima, che è un'altra prima, quindi, fa, un delta, e, quindi, il Qt è di X, meno X. Quindi, queste sono le due definizioni di M-X e M-X. Adesso si tratta di, ma, secondo me, piuttosto di scrivere questo, ti conviene scrivere queste due quantità nelle parentesi quadre del computatore e poi, pezzo pezzo, vedere che paretto ha. Va bene. Allora, iniziamo le persone quale. E sostituisci l'X, quindi, y, y, z, e la cosetta di y. Pindola. Scrivo così, così, e mi insegno a vedere. Ok. A questo punto, esaminiamo i quattro termini e vediamo cosa che possiamo ascoltare. Scrivono, va bene, qui c'è un, qui c'è un'altra, io, con il delta di X, 6 servizi più separati. Mi conviene, allora, cominciamo a scriverli separati. Allora, questo ce lo rimpiamo, perché, vedi, che c'è un z, perché un coltetta, quindi non farà tre, non la rendita in caso, se li ha. Ok. Adesso dovremmo prendere questo, con questo, è il caso di metterlo o lo possiamo mettere? è di teta di teta quindi no e qui y adesso prendiamoci questo questo è il caso di mettere stessa ragionamento per quello di prima questo per questo abbiamo visto che in ultima è tenente adesso mettiamo questo per questo ragionamento annuo rimane un più l'ultimo questo lo mettiamo l'ultimo l'ultimo ok a questo punto vediamo che cosa può venire fuori allora qua e e cioè le puoi applicare con narratività con cui ti senti in grado di farlo ovviamente proviamo a fare un attimo vediamo se riesco veloce vorrei finire comunque sarebbe il data ma vediamo vediamo vedete poi poi puoi decidere di a questo punto questo è giusto è chiaro che a questo punto questo pezzo qui lo puoi portare qua fuori a un passo successivo a questo punto se facciamo un pochino più veloce lo scrivi qui a questo punto c'hai questo che è il meno i perché sono invertiti questo è il meno i qui y di x e questo è il primo pezzo il secondo però y qui i tre saranno gli unici termini che devono rimanere dentro sono quelli con qz e qz però questo tecnicamente sarebbe essere invertiti no questi sarebbero investiti ma non importa perché tanto contano comunque tanto per eleganza sì e perché meno ora sono ordinati no ok quindi vedi che se metti in evidenza un i ha tagliato ottieni è il quarta caso si chiama il commutatore il commutatore no è il commutatore perché sono cose diverse ma voglio dire ha lo stesso modo in cui nx è questo nx è questo questo cos'è nx nx quindi abbiamo visto questo io ve lo magari fa su vogliazza il commutatore di del momento angolare lungo x e del momento angolare lungo x è i ha tagliato il primo momento angolare ok grazie e questo h ci deve essere perché ovviamente qui c'è un quadrato è nm che è un quadrato di due momenti angolari quindi la dimensione è del momento angolare quadrato la dimensione del h tagliato ha proprio la dimensione del momento angolare caso mai non ci aveste pensato è un pulso per una lunghezza quindi è un momento angolare e quindi il risultato è che nx il commutatore nx fa i h tagliato mz potete provarli tutti e quello che soprivete è che m i mj è uguale a i h tagliato y t c k quindi a parte una costante direzionata h tagliato a parte un'in il commutatore di due momenti angolari è proporzionale al terzo momento angolare come segno e un h tagliato è più o meno i a seconda del x risultato risultato allora che significato ha quindi in qualche modo è una cosa importante da dire il momento angolare non componenti diverse del momento angolare non sono osservabili d'accordo? dunque sarà possibile trovare autovettori ma ci aspettiamo il momento angolare nella direzione x o y non è zero o quella che volete voi ma non sarà possibile trovare autovettori simultanei in casi particolari autovettori simultanei di mx se poniamo ed mx la situazione classica in cui mettete una ruota che gira e assegnare questa ruota che gira un valore fissato di tutte e tre le componenti del momento angolare questa non è possibile fare meccanica quantistica non può essere definito più di una componente del momento angolare allora in meccanica classica diciamo il momento angolare ha un ruolo formale molto interessante l'avete studiato? che cosa fa il momento angolare? il momento angolare ne avete mai sentito parlare che è il generatore delle rotazioni? allora diciamo se ne avete sentito parlare se non ne avete sentito parlare lo vediamo ok quindi supponiamo di chiederti il concetto che le parentesi di Poisson che esistono generatori di trasformazioni l'avete mai ascoltato nella vostra storia passata? comunque se manchiamo direi questo supponiamo che io faccia una trasformazione a una quantità per esempio qui e la trasversa qui per in qua per una trasformazione di coordinate che immagino lineare nel parametro del che definisce la trasformazione per esempio potrei fare visto che parliamo di rotazioni deve immaginare che ho un sistema e questo sistema lo ruoto di un angoletto piccolo rispetto a un asse di rotazione allora la teoria vi dice che esistono queste trasformazioni sono trasformazioni canoniche esistono degli oggetti che si chiamano chiamiamo epsilon il parametro infinitesimo che si definisce la rotazione per esempio esistono dei oggetti che si chiamano z per cui vale questa è meccanica classica quindi questa è la parentesi che si può assoluta ok quindi ogni se volete allo stesso modo in cui ogni trasformazione che consente come mutatori in meccanica quantistica l'abbiamo visto prima è associata a una trasformazione unitaria in meccanica classica ad ogni trasformazione delle cui delle t che è canonica viene associata un generatore che genera la trasformazione appunto in questo momento allora il generatore delle rotazioni intorno a un asse è il momento angolare rispetto al caso delle rotazioni g è uguale a m che è la notazione un po' impropria ci sto mettendo la freccia sto dicendo vi decidete voi decidete qual è l'asse intorno a cui volete ruotare e prendete la componente anzi facciamolo con m scala m questa è anche un matematico non troppo rigoroso per decantare quindi il generatore delle rotazioni è la componente nella direzione rispetto a cui sta svolgando il sistema di secolo e in recanica classica questo è quello che succede e sembra misterioso ma è abbastanza banale diciamolo supponiamo di avere delle rotazioni intorno all'asse z z deve avere particolari raccomandazioni ma insomma allora in qualche modo generatore delle rotazioni intorno all'asse z e m ecco d'accordo che avevamo che tu c'hai scritto prima quindi scrivo y invece che qui y per semplificarmi la vita y di z e lo z y ok allora vediamo che questa cosa è vera ok e quindi scriviamo che q t prima è uguale a q i più y volte devo fare la parentesi di queste due quantità come si fa la parentesi di quasson di queste due quantità ricordate la definizione la parentesi di quasson la corrente di di quasson di f di pi è intendendosi sommando su tutte le componenti di f su i x qui per essere più le tante di g su i meno di f più i di g su i qui guardo piace? e quindi scriviamo questa cosa adesso dovrei scriverci come io sto facendo la parentesi di quel somma di qui torniamo in k per evitare sbagliati di confondere indici diversi allora devo fare la derivata di questa cosa rispetto a x per la derivata della seconda rispetto a p a q non dipende da p perché è quindi il primo pezzo è come se non ci fosse e quindi questa cosa la scrivo con q più y volte allora la derivata di g che nel nostro caso è qui rispetto a q k è delta i k e adesso ci rimane la derivata di la derivata y z 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 No, abbiamo sbagliato completamente. E' chiaro? Tutti d'accordo? Perché non l'avete detto prima? E' chiaro? Ok, quindi. E questa deve essere derivata. Ok? A questo punto cosa otteniamo? Se I è Z, cosa succede? Se vi ruotate intorno all'asse Z, cosa vi aspettate che cambi la variabile Z? Allora, noi stiamo ospirendo questo termine. È troppo pixel, non vedi? Mi piace? Ok, allora, chiaramente I può essere o X o Y o Z. Facciamo il caso più semplice. Se I è Z, qui ci avrò QZ, qui l'unico termine che viene selezionato è quello in cui K è uguale a Z. Ma siccome questa espressione non dipende da PZ, in questo mi dice che QZ' è uguale a Z. Che lo potevate aspettare, ruotare intorno all'asse Z, non cambia la cordine a Z. Ok? A questo punto facciamo invece il primo X. QX è QX più Y. A questo punto ho la derivata rispetto a X, che trovo qui, e che vale meno Y. Q' Y è uguale a Q' Y è uguale a Y a QY più Eka. Qui devo prendere la derivata rispetto a Y che mi dà X. Prof? Sì? Scusi, ma non dovremmo... Cioè non dovrebbe esserci una sommatoria? Nella... Cioè data dalle parentesi tipo a sonno? Sicuramente c'è una sommatoria. Allora, ma... Concettualmente hai ragione. Ma l'abbiamo fatta la sommatoria come ora ti racconto. Il primo pezzo mi dice non lo conto perché il secondo termine è Q, e quindi la derivata di Q rispetto a qualunque P fa zero. In questo è d'accordo? Sì. Nel secondo termine dovrei sommare, come mi dici te, tutti i possibili valori di K. Allora io ti sto dicendo che delta G rispetto a Q K è la derivata di Q rispetto a Q K. Ok? Sì. Ritorna. Che vale delta I K? Sì. A questo punto, qui, se vuoi, posso scrivere più Epsilon sommatoria di K. Alla sommatoria di K di delta I K per qualche cosa mi dice che devo prendere quello che segue l'unico termine in cui delta I K è diverso da zero che è quello in cui K è uguale a I. Ritorna? Sì. E questo è il motivo per cui qui c'è un solo termine, ma semplicemente perché nell'assommatorio che giustamente tu mi stai dicendo deve essere fatta, in questo sommatorio di due termini ce n'è solo uno di persona zero. ok? Ok, grazie. Perfetto. Allora, quindi, avete visto che la operazione, questa operazione qui, avendo definito G, con questa prescrizione qui, nel caso, fatto ad esempio, di una rotazione intorno all'asse Z, mi produce queste regole di trasformazione. Vi sono ovvie o no? Vi è ovvio che queste sono le regole di trasformazione per una rotazione intorno a un angolo, di una rotazione rispetto a un angolo tipo Epsilon? Allora, tu hai detto quasi sì, ma hai arricciato, inarcato le sopracciglia, quindi non ho capito se volevi dire sì o no. Allora, qui localmente qualcuno dice che questo non gli piace, non gli è familiare? E da casa? Siete convinti? Sì. Sì. Ok, quindi vi ho fatto vedere che nel formalismo all'interiano classico delle trasformazioni canoniche, a ogni trasformazione canonica è associato un generatore che genera, per così dire, la trasformazione, d'accordo? e quindi questo generatore nel caso delle rotazioni la genera tramite questa operazione di parentesizzazione di passosa, per così dire, che l'abbiamo fatto 3,40. Tramite la parentesizzazione di passosa e abbiamo visto classicamente che il generatore delle rotazioni è la componente del momento angolare nella direzione intorno alla quale voglio eseguire la mia direzione. Adesso, in qualche modo, ci aspettiamo che questa cosa qui sia equivalente in meccanica quantistica e in meccanica quantistica il generatore delle rotazioni sarà qualche operatore che realizza la trasformazione unitaria a cui devo applicare a uno stato fisico per ruotarlo di un angoletto che è una povera in meccanica. La cosa non ha l'equivalente quantistico l'abbiamo già visto per le traslazioni. Vi ricordate che il generatore delle traslazioni è il operatore in flusso. E adesso possiamo aspettarci se anche in questo caso il generatore visto che classicamente il generatore delle rotazioni è il pentacolare che questo sia vero anche quantistica e quindi possiamo un pochettino verificare che questo sia vero e quindi per ruotare quantisticamente una quantità dobbiamo costruire invece che la parentesi di Poisson classica visto che stiamo parlando di operatori dobbiamo visto che questi operatori devono poi operare sullo stato per ruotarlo allora possiamo immaginare di calcolarci se volete mz per mz per qi mutatore classico d'accordo? allora quindi tiriamoci una parte z che è qx py e py qx qi allora intanto c'è ok quindi intanto ce n'è uno che fa zero di questi i e x y z di questi tre ce n'è uno che fa zero z z z per due motivi se è vera questa analogia delle rotazioni che z non viene cambiato quindi certamente qui ci metto quindi nz qz qua z mettiamoci qx ricorda questo cosa vi da cosa vi da mz metta qx qualcuno si azzardi allora il commutatore di questo con questo avanti perché vi trovate così difficoltà c'è qualcosa che non vedo non può fare o meno i h tagliati allora questo con questo cosa fa questo fa zero questo con questo fa fa nina d'accordo questo è quello con il segno ribaltato ma qui c'è un meno che i h tagliate q y facciamo anche l'altro e questo cosa fa va meno i h tagliato q x meno i h tagliato q x d'accordo ritorna ok dunque cosa stiamo stiamo imparando che se ci fate caso qui abbiamo mz uz fa zero mz ux fa h tagliato q y mz q y fa meno i h tagliato q x se provaste a mettere tutti insieme cosa vi verrebbe fuori che m i q j è uguale a in mz i e k q k e c'è un h tagliato quindi vi dice che le quantità che vi dice che il commutatore di m con il vettore qui fa proprio questa particolare espressione d'accordo allora abbiamo detto beh diciamoci così allora cosa cosa possiamo dire beh possiamo dire questo che ricordate le rafforzazioni di prima avevo detto che primo x era uguale qx meno y volte per y primo y per qy più y volte qy primo z e u z d'accordo? sì mi piace di più benissimo quindi cosa se vogliamo mettere insieme queste due cose cosa dobbiamo dire dobbiamo dire quantisticamente q primo i quindi la rotazione è 1 più 2 una qualche costante di c e mezzetta qui d'accordo? e questa costante deve essere questa deve essere uguale a 1 più y volte mz qui ma al posto di mz qui come vedete c'è questa deve essere uguale più c per i questa cosa è uguale a c per i h tagliato perché mz da cui fa proprio i h tagliato per il corrispondente il corrispondente q d'accordo? dunque c e moltifica i h tagliato deve fare y dunque c è uguale a meno i è uguale a meno i meno i per 1 su perché meno i e dunque lo scriviamo qui un primo i e un quadro qui più meno diciamo così se volete il generatore delle rotazioni facciamo scrivere meno i epsi su h tagliato per g la qui d'accordo? quindi questo è il se volete questo agency io devo scrivere un'espressione in cui ottengo questa cosa qui d'accordo? allora classicamente ho verificato che se qui ci metto epsilon ottengo queste trasformazioni qui quindi queste sono le trasformazioni classiche che la teoria mi dice adesso adesso a questo punto sto dicendo dunque a livello a questa struttura qui voglio associare una struttura di se volete un operatore quantistico un operatore unitario che esegue questa stessa esegue questa stessa trasformazione sapendo che il commutatore fra m e m e q è guarda caso proprio la cosa giusta il punto è che c'è un costante i h tagliato che classicamente non c'è e quindi il mio coefficiente la mia costante davanti non sarà epsilon ma sarà epsilon diviso di h tagliato che naturalmente come dire meno i per epsilon diviso di h tagliato d'accordo? allora questo può sembrare strano ma lo vedete lo vedete lo vedete immediatamente nel senso che lasciatemi cancellare perché se no non c'è qualcosa che non vi tolge? ci ha di cancellare un attimo e verifichiamo cosa succede se io applico l'operatore 1 più 1 e x h tagliato mz a uno stato s questo è l'operatore che dovrebbe se tutto quello che ci siamo detti prima è giusto ruotare la scatola mettiamoci nelle rappresentazioni incidenti d'accordo? e quindi il mio stato è rappresentato da una x di x e di z ok? a questo punto applichiamo questa operazione quindi avrò la x x y z meno i y di artigliato a questo punto devo mettere x di y meno y di x applicato alla stessa ok? ma ogni d è appunto meno i h tagliato la decata quindi l'h tagliato lo cancello perché mi fa il meno i per meno i mi fa un meno uno e qui c'ho x di x qui c'ho di y chiedo scusa e qui c'ho x le derivate lo scrivo così per fare le interazione di diviso di y e quindi questo mi fa c x x meno meno y x e la derivata rispetto a y si x e poi la derivata rispetto a y si x più y y e la derivata rispetto a x di y di x di y vedete cos'è questo pezzo è il primo termine dello sviluppo di tempo e quindi è approssimativamente x calcolata nel punto x più y y y meno y x z notate il cambio il cambio di segno e non come dunque abbiamo se volete abbiamo il abbiamo il generatore e diciamo se volete la espressione ah sì sì ho capito ho capito il colubbio allora è una questione leggermente complicata e la ve la racconto la prossima volta in dettaglio perché è un punto chiave diciamo dei generatori in generale per il momento diciamo abbi fiducia per oggi e la prossima volta ti racconto questo comunque se hai fiducia in me vedete oggi abila sì scusa cosa hanno chiesto che non si è sentito hanno chiesto perché qui c'è un M e non c'è il commutatore di M con ah ok grazie la prima volta che la ve la racconto in dettaglio allora per il momento andiamo avanti e cosa otteniamo otteniamo questa espressione qui che è questo è il primo termine del sviluppo in serie quello che notare è il cambiamento di segno qui c'era meno e c'è diventato più qui c'era più e c'era diventato meno questo lo capite supponiamo che questo sia l'asse xy supponiamo che la funzione d'onda sia grande qui se io è piccola qua se io ruoto il sistema così la mia funzione deve diventare grande qui dove lo era prima e quindi le coordinate devono essere scambiate non so se il disegno specifica la questione ok quindi a questo punto abbiamo abbiamo in qualche modo visto che il questa cosa genera le rotazioni nel senso che otteniamo che la espressione per l'operatore che l'operatore che mi induce la rotazione intorno alla sede è appunto questa particolare infinitività questa particolare combinazione del momento annulare vi intuite senza entrarci in dettaglio che la stessa cosa sarà vera se invece che ruotare il momento annulare invece che ruotare la coordinata ruotassi il pulso e che quindi vi potreste aspettare che tutto questo era figlio questo computatore che voleva dire i a rispondere k intuirete anche ma potete verificarlo esplicitamente avrete prima che scriviamo i cos e m i j uguale i e e k ha tagliato lo scrivo qui di k e così via per tutti gli oggetti che sono vettori quindi ma già l'avevamo visto m i e m c e uguale a i e m e m se c'è una quantità che non ti cante se io ruoto cosa vi aspettate che succeda? il computatore faccia 0 e quindi in particolare potrete vedere in particolare potrete vedere che m i quadro uguale a m i quadro è uguale a m i m quadro ed è uguale a 0 questo lo potete vedere esplicitamente diciamo vediamo il primo questo diventa m i u l quale quindi quindi questo è uguale quale di qua l i lascia già i tagliato i punti u l di qua ex i l k u k e quindi vedete che qui avete il tensore u l k pari e qui l su k è dispari analogamente quando prendete quest'altro lo mettete dall'altra parte più così e quindi per essenzialmente dovuto al fatto che qui avete sempre strutture simmetriche che si moltiplica secondo y d'accordo? e quindi in particolare questo 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 fanno 0 e tutti gli altri cosiddetti scalati fanno 0 in particolare questo vi dice che mentre non è possibile avere una base di autovettori compatibili di mx ed mx invece è possibile avere una base di autovettori compatibili di m4 è possibile trovare degli autovettori che degli stati che sono autovettori simulare dm4 e d1 è meglio a scienza scegliete quello che preferite è possibile trovarli quindi il nostro listiere adesso sono le 16.07 è quello di provare a costruire tutti gli autovettori di trovare quali sono le proprietà degli autovettori di m4 di m1 e quali sono i corrispondenti automotori e quindi vogliamo trovare vogliamo trovare degli stati che chiameremo un quale ed m ok e allora decidiamo che l ci interesse mz tanto se mai citano di in qualche modo mz la mia scelta di mettere l'acca tagliato vuole dire che questo numerino qui sarà adimensionale analogamente m4 applicato m4 m di rax il numero v4 per rax e rax e rax per 4 e quindi naturalmente il mio obiettivo è di trovare quali sono i valori possibili per v4 ed rax quindi quali sono gli autovalori quali sono gli autoventori che degenerazioni hanno tutte queste belle cose che ormai fanno parte del gioco della meccanica di sede allora qui si può adottare un trucco che abbiamo già adottato nel caso dell'oscillatore armonico che è quello indovinate voi di fare che nel caso del studio algebrico iniziale dell'oscillatore armonico abbiamo trovato una cosa bellissima l'abbiamo trovato l'abbiamo trovato età e età croce che sono quegli strumenti applicati un altro vettore della miltoniana dell'oscillatore armonico producevano un altro autovettore con un altro valore cresciuto e qui c'è qualcosa di analogo che si chiamano m più ed m meno allora m più è mx più i mx m meno m m m m m mx cosa facciamo a livello questi due questi due oggetti che se io prendo m3 m0 e faccio il commutatore con mt cosa non è ottengo mz commutatore con mx più i volte mz commutatore con mx d'accordo? e questo mi fa i h tagliato m y z x y e più guardate qui mi fa più e di qua cosa ho? più i volte adesso qui ho z y qui ho z qui ho y qui ho x e quindi mi dà il segno meno i quindi più i per meno i per h tagliato per z x derivate ok? che è come dire se per questo punto questo mi dà mx più i la bilanza se volete h tagliata a mx che moltiplica proprio mx più i mx quindi mz per mz per scommodatore questo qui h tagliato mx ricorda? allora cosa me ne faccio di questa perché già mi cancello la derivazione e le le scrivo qui a canto un'altra cosa che potete guardare è che se invece fa m quadro m più questo fa zero fa zero perché questa è una combinazione di mx ed my e dunque più grazie allora cosa se invece provate a fare mz m meno otterrete meno h tagliato m e se fare esattamente la stessa e allora cosa vuol dire vuol dire che se io ho uno stato di questo tipo che so che è un autovettore di mz con un autovalore n nel cielo la meccanica quantistica degli h tagliato ci si dimentica si dice che questo è un autovettore di mz con un autovalore n ovviamente si intende in unità in unità di affettabilità d'accordo? allora se torniamo che questo sia nero allora se torniamo di applicare mz a m più di uno stato v4 m m più di un autovalore m più m0 applicato anche il quadro m semplicemente ribaltato più più il commutatore mz m1 applicato allo stato m questo mi porta fuori un m questo è uguale a m h tagliato m m più m il quadro m il commutatore è scritto qui e questo mi dà più h tagliato per m più per un quadro m che naturalmente è proprio m più 1 h tagliato il quadro m più m m e questa espressione qua sotto capite che è l'analogo della definizione questo definisce l'operatore di salita se ha uno si ripete se ha uno stato che è un altro stato di m0 con un altro valore m lo stato contenuto applicando l'operatore m più a quello stato mi darà un nuovo stato che è anche lui un autotettore di mz ma con l'autovalore cresciuto di 1 nelle unità di h tagliato immagino che vi sia abbastanza ovvio che se invece di m più ci metto m meno e succederà che la si invece quindi posso metterci più più o meno e qui ci metto più o meno e qui ci metto più o meno e qui avrò l'operatore di salita e l'operatore di salita quindi questi operatori permettono di salire o di scendere in una catena in Italia si dice che ci dice che il mezzo anulare ha una serie di per vedere una serie di autotettori corrispondenti a 8 valori che sono crescono e scendono di 1 quindi a questo punto la domanda successiva è se questa somma questa attrazione continua al infinito verso l'alto verso il basso oppure se è limitata verso l'alto o verso il basso oppure è limitata sia verso l'alto che verso il basso se esiste una range di possibili valori di n che sono messi come un valore più grande di mmax o più minimi di mmin non sono possibili oppure se invece no c'è un momento anulare ha un numero arbitraio di autovalori positivi e negativi qui diciamo quindi direi che visto che ho anche pochi minuti quindi la domanda per il momento ve la lascio a voi fino alla settimana prossima a mangiarci quindi sappiamo che esistono operatori di salita ovviamente se esisterà se esiste un valore massimo di quanto l'area è messo vorrei dire che l'operatore di salita applicato a quello stato dura 0 se esiste un valore minimo di autovalore di momento angolare ammesso vuol dire che l'operatore di discesa cadra a quello stato da 0 se questi due minimi non esistono vuol dire che applicando tante volte quanto vogliamo m più ed m meno potete cercare di intuire quale possa essere la soluzione tenendo conto che quello che ci sta veramente a cuore è trovare una struttura di autovalori autovettori compatibili di m4 e di mz quindi se volete la quale potrebbe essere la risorsa intuitiva visto che le ruote delle biciclette le posso far andare veloci quanto voglio mi verrebbe da dire che potrei avere autovalori grandi a piacere d'altra parte potrei porne una domanda più sottile fissato un valore del mod di m4 cioè del momento angolare totale d'accordo? se volete io sto misurando la classica il momento angolare totale classicamente se il momento angolare è storto non sarà diciamo diciamo che questo classicamente è sicuro fare un vettore grande questo sia il vettore x x e questo e questo z d'accordo? questo vettore io ve l'ho disegnato orientato così uno stesso vettore m4 lo stesso vettore momento angolare che ha lo stesso valore che ha lo stesso modulo classicamente può stare dunque in questa sfera giusto? quindi se io fisso il valore di m4 quindi la lunghezza del sessore m potrei aspettarmi classicamente che la componente z sia da tutto questo è proprio qua su e sia potrei aspettarmi classicamente che mz sia il valore dello di m oppure se prende qualunque valore fino a meno di foto di m se questo vettore l'ho ruotato tutto qua giù mantenendo giusto ok? quindi dobbiamo vedere se d'altra parte questo m lo posso fare arbitrariamente lungo quindi avendo fissato la lunghezza del vettore mi posso aspettare classicamente qualunque proiezione nel vettore la domanda è quantisticamente succede la stessa cosa succede circa la stessa cosa beh intanto abbiamo visto che ci sono scalette di auto quindi sembrerebbe che non qualunque proiezione di questo vettore possa andare bene inoltre sembrerebbe a questo punto quindi la domanda è ma allora questa scaletta quanto va va da più m a meno m allora se così è questo dovrebbe dare un vincolo tra i possibili valori di m4 e i possibili valori di m0 questa ve l'ho raccontata in modo esclusivamente intuitivo e la prossima volta se volete ragionarci un po' cercheremo di vedere sulla base delle proprietà di liberatorie di salite e di discesa cosa possiamo dire a livello più formale su questa analogia prima abbiamo fatto solo un'analogia classica nel caso in cui il mondo è quasi classico succederà questa cosa vediamo la prossima volta cosa succede avete altre domande quindi domani ci sono le citazioni e e ci sono le cose che ci sono un momento di pare che è tanto in l'inferno non ci vediamo che un momento di l'inferno è che possiamo dire che le cose sono dunque non è la strada più più direttamente quello che puoi vedere siamo qui puoi ragionare in termini esclusivamente quello che stiamo costruendo è ciò che si può dire sugli autovettori e autovalori di un osservabile che soddisfa queste equazioni non c'è nessun altro ingrediente capisci che queste sono fondamentali perché ti hanno permesso di dire di derivare questa e questa tu hai messo come unico ingrediente questo non hai messo nient'altro la domanda è se io ho degli operatori tre operatori MX, MX, MX che hanno queste relazioni di computazione cosa posso dire dei suoi autovettori e degli autovalori congiunti di questo, di questo di questo, di questo i risultati saranno come al solito non a pugni con la percanica classica però con un po' di differenza e con alcuni aspetti estremamente tutti bene vi lascio se avete altre domande vi lascio domani no domani no domani c'è Daniele e noi ci vediamo la settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti